Buongiorno FTI Online, mercato incerto questa mattina, Fuzzimib in questo momento infatti ha meno 0,19%, siamo sui 16.600 punti circa, diciamo che dopo il bel rimbalzo di ieri le quotazioni si sono prese una pausa, sarà a questo punto importante capire se i prezzi riusciranno a mantenersi a di sopra di aria 16.500 che era un livello di resistenza molto significativo, ora è diventato un supporto altrettanto importante, l'attenuta di quel livello e la rottura dei massimi odierni intorno ai 16.660 punti dovrebbe permettere movimenti verso aria di 16.750 almeno. C'è alcuni titoli che stanno cercando di muoversi nonostante l'incertezza del mercato, da questo abbiamo Luxottica, graficamente molto interessante perché come è possibile vedere dal grafico a candele giornaliere, nel corso delle ultime due giornate i prezzi non solo hanno disegnato degli elementi rilevanti come il martello del 7 ottobre, quindi una tipologia di candela che compare normalmente in presenza di supporti molto rilevanti e che tra l'altro notiamo essere il reciproco dello Shooting Star che invece era stato disegnato il 28 settembre e dal quale era partito il ribasso che era terminato il 7 ottobre, ma le ultime due giornate formano poi insieme un ulteriore figura rialzista, un tweezer bottom, ovvero sia un piccolo doppio minimo che al superamento del massimo del 7 ottobre a 41,18 Euro verrebbe completato segnalando un probabile avvio di una fase di rimbalzo che avrebbe come primo obiettivo l'ex supporto critico dei 42 Euro e in caso di superamento di quei livelli invece ci sarebbe la possibilità di andare a interessare un'altra area critica orizzontale, quella dei 44 Euro e 70, 80 Euro. Allargando l'orizzonte temporale dell'analisi vediamo che il titolo reduce da una fase negativa di ampia durata, in termini di indicatori se andiamo a guardare l'RSI a 21 sedute, quindi con una temporalità più dilatata rispetto al solito vediamo che sta scendendo verso l'ipervenduto, ma ancora si mantiene sostanzialmente nell'area neutrale, è anche vero che il 21 giorni praticamente su luxottica negli ultimi anni non è mai sceso in zona di ipervenduto, mentre ha salito in ipercomprata in due occasioni nella parte terminale del 2014-inizio 2015. L'RSI a 8 giorni invece è più veloce, quindi è utile per cercare di studiare i movimenti di breve termine, è effettivamente sceso in ipervenduto proprio nelle ultime giornate, dopo essere stato nell'area opposta a quella dell'ipercomprato in coincidenza dei massimi del mese di settembre. Quindi i presupposti tecnici per un rimbalzo ci sono, sia in termini di indicatori che di figure grafiche, a questo punto sarà importante che i pezzi si mantengono al di sopra dei minimi di area 39,90 per confermare la possibilità di rialzo verso 42,44,70. Bene anche Moncler, anche in questo caso c'è un rialzo questa mattina importante, 15,45, la chiusura di ieri era stata a 15,25, il titolo si muove lateralmente ormai da due mesi circa, nella seduta di ieri sono stati avvicinati i minimi, la base di questo trading range che si posiziona intorno ai 14,80, il test della parte alta di questa fase laterale a questo punto verrebbe facilitato dal superamento del massimo del 5 ottobre a 15,51, con target in quel caso in area 16,16,05. La rottura anche della parte alta del trading range permetterebbe al titolo di proseguire la sua fase di crescita nell'ambito del canale rialzista che è possibile disegnare dai minimi del gennaio di quest'anno, un canale che fornisce come limite superiore il target del rialzo a 18,55, 18,60 circa. Quindi fino a che ci manterremo al di sopra di area 14,75, le previsioni sono in favore non solo di un area 16, ma anche di un superamento di quella resistenza con successivo raggiungimento di area 18,18,50. Quindi anche questo è un titolo sicuramente da seguire con grande attenzione e inserendolo magari già in portafoglio a patto di proteggere le posizioni con uno stop subito di sotto di area 14,70. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo buona giornata e vi diamo appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero. Grazie.